Allora ragazzi, ci vediamo, cena di Natale, Olimpia New Gym 2022 con il grande Davidone, ci divertiamo, adesso brindisi, lo aspettiamo, agriturismo e il parco. Allora ci siamo, è il Vecindia, c'è il Natale 2022, sono giuste in questa organizzazione, palestra Olimpia New Gym, ci stanno ecologi, lo stasso, aspettate facciamo l'imprindisi, presentazione dello stasso, per l'esimizione di D'Altre e Zumba, dai, facciamoci un applauso, sono le mie pare, Olimpia New Gym, dai, attenzione, spuette, su, dai, dai, siamo, ai, Allora vogliamo incominciare con la presentazione dello stasso, Olimpia New Gym 2022 e 2022. Quindi partiamo dai, per chiama, c'è la, e c'è più, dove è? Sesena, bravissima, Mosi, per il mattino, Matteo, nuovo, stasso, dai, Matteo, 10, bravissimo, Scriviti, per il sabato mattina ti aspetta, eh? Masha, Masha, bravissima, eh? Due, Lucio, ecco dai, Lucio, cinque brazze, Domenico, Luca, Ailadi, Ailadi, ecco dai, la fitness, Jim Ailadi, patto con lei, la grande Elena, Alessandra, 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 aspetta, vi sto chiesto, da sempre e tre, Sabrina, Allora, vi sto chiesto, adesso, posizioni, Monica, Zumba, Grosse, 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 la storia, l'antaggressione, un grande, Andrea, Un grande, Andrea, eccolo, benissimo, Andrea, allora, continuiamo con il discorso, Salpezi, anche noi, della grande Dersessi notarie, muoentri, Natale, Dai, 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 la nostra, una chiedita, Daria, la nostra, i suoi face, benissimo, e perciò che il mio figlio è di YouTube e perciò che hanno preso i nostri grandi e tante palazioni e perciò che i nostri strumenti tra cui chiara la nostra osteopata e perciò che abbiamo anche la nostra nutrizionista la nostra Giulia Buona regina e buona ricorda ricordo che quindi la palestra abbiamo quasi 1000% iscritti quindi specialmente un ringraziamento a loro quindi un certo applauso per la stanza della regina Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!